Siamo qui con Cristian Battisti del Cisterna di Latina, buongiorno. Buongiorno. Una sfida splendida, finita su 2-2, anziché meritavate qualcosa di più? Io penso che, viste le occasioni che abbiamo avuto e la quantità di questa sovalla nella loro metà campo, meritavamo qualcosina in più, però siamo riusciti a concretizzare le occasioni e è andata così, al punto che ci stiamo facendo abbastanza stretto. Le tue invece le hai concretizzate come? Una doppietta splendida o almeno primo gol sicuro e il secondo da verificare? Il gol è il gol, se la palla entra è il gol, l'ho insegnato così a me. Un voto alla tua prestazione invece da trascinatore con questa splendida doppietta? Non è servito a portare la vittoria, quindi non può essere ottima. Anziché sia un in top questo pareggio o riuscirete a dare continuità a Ea? Penso che noi da martedì riprendiamo i nostri allenamenti e pensiamo a domenica. Purtroppo il calcio è così, non si può sempre vincere, non riesci sempre a fare tutti i gol e a concretizzare tutte le occasioni che costruisci. Però non molliamo, siamo lì, il campionato è lungo. Grazie mille, batti questi.